Quando venni qui, Hamburgo era un mondo completamente nuovo per me. Ma ora mi sembra più una prigione. Ogni giorno qui sembra l'ultimo giorno di libertà. Una volta arrestati, gli uomini sono portati in prigioni e campi di lavoro forzato. Mio Dio, aiutaci. Quello che fa è davvero straordinario. Buona fortuna in Brasile, Gretel. Il coraggio per la libertà. Spero di potermi fidare. Si può fidare di me. La forza di una sola donna. Vedrai che lo faremo uscire, tranquilla. È la salvezza per centinaia di vite. Cerco di aiutare le persone come posso. La storia di Eraside Carvaio, giusta tra le nazioni. È così bella da essere indecente. Capace di contrastare con la sua determinazione. Una guerra spietata e ingiusta. E quando tutto questo sarà finito, sono sicura che ci rivedremo. In Prima TV assoluta. Passaporto per la libertà. Da giovedì 24 novembre in Prima Serata, Canale 5.